Eccoci. E poi inizio con due informazioni tecniche per chi era già con noi all'incontro scorso, sono un po' ripetitive, per i nuovi sicuramente sono molto utili. Allora, chiediamo a tutti ovviamente di tenere il microfono spento, ma vedo che lo avete già tutti spento, quindi ottimo. E almeno fino all'ultima parte in cui vi chiederemo, anzi, di accenderlo e di farci delle domande, di intervenire, lasciare dei commenti. E poi chiediamo a tutti di rinominarsi, per chi non l'avesse già fatto, almeno con nome e cognome, e questo ci è utile un po' per capire chi è qua con noi oggi. E poi anche poi dopo, in un momento successivo o alla fine del corso, eventualmente se avete bisogno, per rilasciarvi un attestato di partecipazione. Su questo potete o scriverlo in chat oggi o mandarci un'email a parte, e insomma su questo non c'è nessun problema. E per chi ne avessi bisogno. Ultima cosa, abbiamo una chat, quindi usatela. Durante tutto l'incontro potete lasciare i commenti, domande, anche insomma, mentre vi vengono in mente. E avremo, come anche all'incontro scorso, una parte finale di discussione libera. Quindi vi invitiamo a partecipare e, insomma, a puntarvi delle domande, delle discussioni che volete aprire. E ho detto tutto. Scusate, come sempre, vi scordo di presentarmi, per i nuovi. Io sono Mila Sarini, Bansterice Culturali, e stiamo seguendo questo percorso Coltivare una Rete, per e con il settore patrimonio culturale della regione via Romagna. E io passerei la parola a Cristina Ambrosini, dirigente del settore. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Anch'io vi saluto e sono molto contenta che siamo arrivati alla seconda puntata del nostro corso dedicato alle reti museali. Non voglio far perdere tempo e non voglio dilungarmi in discorsi già fatti. Ci tengo a precisare di nuovo quanto il nostro settore, quindi con me vedete quasi al completo il gruppo del sistema museale regionale, abbiamo Silvia, abbiamo Barbara, abbiamo Reattrice Rossini, quanto stiamo cercando di calare nel concreto occasioni per capire, approfondire, confrontare le nostre singole realtà e poi guardare avanti per costruire forme di collaborazione che però siano rispondenti ai fabbisogni dei nostri istituti culturali, dei nostri musei. Dei nostri musei che costellano la regione, che sono tanti di dimensioni molto diverse tra loro, che ci fanno pervenire delle richieste su esigenze dei fabbisogni spesso comuni e molto diffusi e che necessitano di risposte a questo punto molto concrete. Noi siamo convinti per le esperienze che stiamo facendo insieme, per i corsi anche sull'accessibilità e sul riordino dei depositi museali, che la via migliore sia quello di enucleare delle realtà che manifestamente dimostrino di voler costruire qualcosa insieme a livello territoriale, a livello tematico, a livello di approfondimento di alcune fasi della vita del museo. Quindi non abbiamo la ricetta pronta noi, non la vogliamo somministrare come un farmaco per la soluzione di tutti i problemi. Noi vogliamo capire con voi, essendo molto schietti, noi ma anche voi, che strada dobbiamo prendere. Già, siamo a fine anno, siamo impegnati a costruire il bilancio del 2024 nel triennio 24-26. Noi siamo fortemente impegnati a cercare di allocare le risorse che ci verranno consentite, ma stiamo veramente lottando per far crescere i nostri musei in un'ottica collaborativa, che, a parere personale, ma non credo di essere la sola, è l'unica strada possibile nei prossimi anni. È l'unica strada, è quella più virtuosa, è quella più efficace, è quella più stimolante. È anche, senza dubbio, quella che presenta delle fatiche oggettive, perché si tratta di camminare insieme, si tratta di accettarsi, si tratta di capire veramente quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere insieme. Ecco, noi crediamo che corsi di questo tipo, con somministrazioni di occasioni di confronto, ascolto, approfondimento, conoscenza di altre realtà distribuite nelle nostre giornate lavorative, stiano una modalità efficace. Ma anche qui, alla fine del corso, ovviamente ci sarà la possibilità di avere un riscontro da parte vostra di soddisfazione, ma anche di suggerimenti rispetto a modalità da mettere a punto che siano sempre più efficaci. Oggi, in particolare, io saluto e ringrazio tantissimo Marco Disantor, che è con noi e che ci permetterà di fare un affondo di grande competenza su, appunto, forme giuridiche possibili di collaborazione, ma anche strumenti innovativi. Abbiamo l'opportunità di avere con noi un esperto di caratura nazionale, che è anche docente in questo momento, percorsi, concorsi di dirigenti all'interno appunto del Ministero, e quindi credo che sia un'occasione per mettere a fuoco davvero quelle che sono le nostre esigenze e trovare la strada insieme. Noi, come settore patrimonio culturale, come assessorato alla cultura e al paesaggio, ci siamo, vogliamo appunto che ci consideriate sul pezzo, in questo senso, anche per scelte molto concrete, di indirizzo a chi magari ancora non ha ben capito su che strada prendere. Io vi ringrazio e quindi concentriamoci su queste ore di impegno, ma anche sicuramente molto stimolanti. E grazie ancora a Marco Disantor. A voi. Ottimo, grazie Cristina. E riprendo io la parola velocemente per farvi una piccola introduzione al tema delle reti museali. È mancata l'incontro scorso, ma forse anche volutamente, nel senso che vi abbiamo prima presentato dei casi concreti di rete, quindi vi siete subito interfacciati con la realtà del mettersi insieme e costruire una rete museale. E adesso vorremmo fare un passo indietro e riflettere un po' con voi invece su proprio qualche definizione rispetto alle reti museali. Eccoci qua. Allora, prenderò pochi minuti, quindi tranquilli, poi lascerò la parola a Marco Disantor che prenderà la maggior parte di questo incontro. Ma di cosa vorrei parlare con voi in questi pochi minuti? Sicuramente di definizioni e disambiguazioni e questo non tanto per fissare dei confini diciamo limitanti alle definizioni, ma piuttosto per acquisire un linguaggio comune che ci è utile in generale, ma ci sarà soprattutto utile per il prossimo incontro del 9 novembre presso il Mambo, in cui vorremmo costruire i tavoli di lavoro e iniziare proprio un po' a progettare delle reti museali. Quindi un linguaggio comune è il primo passo sicuramente per questa co-progettazione. E poi vorremmo provare sempre a dare delle tipologie di rete, anche qui non per fissare dei confini, ma piuttosto per esplorare quali sono le possibilità di fare rete. Sicuramente questa presentazione non è una presentazione accademica, ma per sopperire a questo in fondo troverete, poi vi invieremo a questa presentazione, come tutte le altre, delle risorse che vi abbiamo selezionato, quindi se volete approfondire, studiare meglio la letteratura sul tema, trovate dei volumi sicuramente molto più approfonditi. Ma facciamo un altro step indietro, cioè partiamo proprio dal concetto di rete o network. Che cos'è una rete? E può sembrare un po' banale, però ci sembra giusto ridircelo. Qua abbiamo preso proprio una definizione della Treccani, che cita una rete è un insieme di persone o di cose in cui quel legamento consente di svolgere compiti di collaborazione, cooperazione e osservazione, volto medesimo fine. Quindi qua già vediamo degli elementi della rete che sono già emerse dall'incontro scorso, dai racconti delle esperienze insomma che abbiamo ascoltato. Sicuramente un medesimo fine, quindi degli obiettivi comuni. Il tema poi della collaborazione, dello scambio, della cooperazione e il fatto che ci sono delle persone, delle cose che si mettono, si uniscono. Quindi il fatto di costruire una struttura interconnessa. Parlando poi di rete museale, ovviamente ci caliamo nel nostro settore, quindi nel caso in cui dei musei, ma non solo musei, noi lo prendiamo con una sezione più ampia, quindi istituzioni culturali, si mettono insieme per raggiungere i risultati comuni. In particolare per ampliare la qualità o la gettata delle proprie attività, quindi diciamo per raggiungere degli obiettivi che altrimenti singolarmente non riuscirebbero a raggiungere. E una rete museale non è solo un insieme di musei che condivide le risorse, è molto di più, è anche un sistema che costruisce dei legami più forti, più deboli, ma comunque che costruisce un ecosistema di legami tra musei. Perché le reti museali si costituiscono? Ci sono, abbiamo ascoltato delle storie molto diverse la settimana scorsa e sicuramente ci sono degli obiettivi diversi, ma più o meno abbiamo provato a riassumerli in sei punti principali. Allora, sicuramente le reti, i musei si mettono insieme per condividere e ottimizzare delle risorse. E questo, il termine risorse è un'accezione molto ampia, nel senso che non sono solo risorse economiche, ma anche persone, strumenti, spazi, eccetera, eccetera. I musei si mettono insieme anche per condividere informazioni, quindi per avere un quadro cognitivo più ampio sul proprio settore, sul territorio, per condividere conoscenze e competenze, e questo è un obiettivo sempre più forte in realtà, ma anche per costruire economia di scala, quindi per rendere i musei più efficienti e più sostenibili, anche potendo accedere a progettazioni, finanziamenti, fonti di entrata più, anche più diversificate. Un altro obiettivo che si danno le reti museali è anche quello di massimizzare, diciamo, l'impatto sul territorio o sui pubblici, quindi, diciamo, valorizzare più il proprio patrimonio e costruire soprattutto le comunità più vicine. Ultimo obiettivo, innovazione e sviluppo. Sicuramente il fatto che dei musei si mettono in rete rafforza anche tutti quei processi di innovazione che si possono costruire all'interno dei musei. Due parole sulle disambiguazioni. Nella letteratura sul tema ci sono tanti termini che si usano per identificare proprio delle strutture interconnesse di musei. A volte questi termini vengono usati un po' in modo ambiguo, uno fra l'altro, quindi sicuramente non è semplice dare delle definizioni. Quello che ci sentiamo di condividere con voi è che il concetto di rete museale è abbastanza ampio, nel senso che include al proprio interno delle tipologie, delle forme, delle storie di musei che si mettono insieme e molto diversificate. Una disambiguazione che ci sentiamo però di portare a voi è quella fra rete e sistema. Diciamo che la differenza principale tra una rete e un sistema è che la rete è una connessione di musei e istituzioni culturali più flessibile in cui le istituzioni all'interno della rete sono più autonome. Il sistema invece ha una struttura organizzativa più forte con una direzione, diciamo, centrale, più stabile e, diciamo, anche inquadrata in un'area geografica abbastanza limitata. Sempre per vedere questa differenza, alcune caratteristiche della rete che sono quelle principali, sicuramente la collaborazione, cioè i musei all'interno della rete coprogettano, collaborano, corealizzano delle attività, il fatto che la rete può avere un focus non solo geografico ma anche tematico e magari questo lo rivediamo dopo nelle tipologie di rete, l'autonomia, quindi il fatto che i musei all'interno della rete mantengono una certa autonomia che sia identitaria ma anche gestionale più o meno, però insomma sono delle istituzioni autonome, il fatto che si condividono gli obiettivi, quindi la rete si dà un sistema valoriale degli obiettivi comune e la flessibilità, nel senso che le reti sono degli ecosistemi, degli organismi che cambiano nel tempo, si sviluppano. L'incontro scorso abbiamo ascoltato come le tre reti che si sono raccontate hanno in realtà un progetto di cambiare la propria forma perché nel corso del tempo la propria forma, la forma che avevano scelto non è più valida, quindi o comunque non risponde più alle loro esigenze. Mentre un sistema dall'altro lato ha un coordinamento centrale molto forte, quindi è solitamente guidato da un'entità, da un'istituzione, si punta verso una standardizzazione dei musei che ne fanno parte, quindi si cerca di condividere delle linee di guida comuni, si cerca di gestire anche un po' le attività ordinarie del museo in modo standardizzato. Collegato a questo, i musei sono molto coesi all'interno del sistema e c'è una gestione unificata di alcune attività, come ad esempio il personale, il fundraising, eccetera, eccetera. Le tipologie. Come si differenziano i reti museali? Sotto vari aspetti si differenziano, sicuramente per natura e forma, per obiettivi e scopo, cioè per quale motivo quei musei si sono messi insieme, per tipologia di soggetti coinvolti, quindi tipologia di musei o altre situazioni culturali, numero di soggetti coinvolti, quindi ci sono reti più piccole, più grandi, ma anche i soggetti stessi possono essere più grandi o più piccoli e anche per processi di costituzione delle reti, cioè sono delle reti che sono nate dal basso oppure reti che sono nate dall'alto, quindi quasi sono tutti degli elementi che diciamo, combinati in modi diversi, creano delle tipologie diverse di rete. Noi vi proponiamo questa tripartizione in tre tipologie principali che come vedrete però sono spesso sovrapposte, quindi una rete museale può in realtà essere più tipologie. Iniziamo con le reti tematiche. Le reti tematiche sono quei gruppi, quei aggruppamenti di musei uniti da un patrimonio culturale comune, come ad esempio musei archeologici o musei etnografici, o un argomento di interesse comune, come ad esempio la storia delle immigrazioni o ad esempio nello scorso incontro abbiamo ascoltato la storia di musee del cibo, lì c'è un argomento che li accomuna. Vediamo dopo il caso di musee del cibo. Qua accanto vi abbiamo riportato alcuni esempi, non sono sicuramente esossivi, ma abbiamo messo le lingue così potete andare un po' a esplorare cosa sono queste reti, ma non starei di lungarmi adesso in questi esempi qua. Poi passiamo alle reti territoriali, queste sono quelle forse anche più diffuse, quindi sì, sono dei musei che si raggruppano perché appartengono a un'area geografica, ma anche storico-culturale omogenea. Spesso questo tipo di reti si collega molto anche a delle interconnessioni diciamo tra istituzioni pubbliche, quindi ad esempio fra comuni, fra unioni di comuni, eccetera eccetera, e sono sempre spesso anche molto legati alla promozione territoriale o turistica del territorio. E infatti qua vedete la lista di esempi molto più ricca. Diciamo che tutti e tre i casi che abbiamo visto nell'incontro scorso in realtà appartengono alle reti territoriali. Il caso di musee del cibo credo sia molto interessante, ne abbiamo anche un po' discusso con Giancarlo Gonizi, il coordinatore, perché di fatto i musei del cibo sono sia una rete territoriale che tematica, perché sono una rete che si mette, diciamo, è accomunata da un tema, quello del cibo, ma è fortemente legata al territorio, cioè il cibo è un tema molto identitario del territorio di Parma e quindi, come vedete, in questo caso è una rete che appartiene a più tipologie. Per concludere, le reti di scopo. Vedete che abbiamo in realtà giusto un paio di esempi perché sono meno comuni come tipologia di rete, ma sono degli insieme di musei che si mettono insieme per un obiettivo o un'area tematica molto ben precisa. Qua infatti vedete due esempi in realtà entrambi i toscani, i musei toscani per l'Alzheimer e i musei di tutti che si uniscono appunto ai musei toscani per l'Alzheimer lo dichiarano già nel proprio nome per costruire una, insomma, delle connessioni fra musei per, diciamo, offrire dei servizi e delle attività per persone con Alzheimer e i musei di tutti invece lavorano sul tema dell'inclusione. E qua ci sono le risorse che vi abbiamo, a cui vi ho accennato, che vi invitiamo a esplorare e io mi fermerei qua. Se avete le domande scrivetele in chat o ne parliamo dopo, ma io adesso invece passerei al cuore del nostro incontro, quindi passerei la parola a Marco Inizianto. Allora, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti e devo innanzitutto fare i complimenti alla dottoressa Ambrosini che penso che sia la prima persona che in Italia, a meno già insomma mi conosce da tempo quindi era addestrato sul mio cognome, ma la dottoressa Ambrosini invece miracolosamente penso che sia veramente una delle poche degli ultimi vent'anni che abbia a primo colpo individuato l'accento giusto del mio cognome e quindi mi ha definito come giustamente Marco mi sono fatta furba, mi sono preparata prima mi sono preparata prima tutti mi chiamano Marco Di Santo ed è diciamo curiosa questa cosa perché poi io dico Marco Di Santo ah Marco Di Santo beh c'è proprio l'accento sulla invece e la dottoressa Ambrosini è stata impeccabile allora detto questo chiaramente vi ringrazio per l'invito sono veramente contento di questo incontro perché è un'occasione importante di discussione su un tema assolutamente rilevante come quello della cooperazione fra soggetti pubblici e non solo per la costruzione diciamo di un modello di gestione di un paradigma che possa farci superare un po' tutte le incertezze che fino ad oggi abbiamo riscontrato nell'applicazione dei sistemi di cooperazione allora vi dico subito che io immagino questo cioè ho costruito un po' questo incontro più come una forma di ragionamento collettivo quindi vi chiederei anche al di fuori diciamo un po' del protocollo che ci siamo dati di poter interagire il più possibile all'interno diciamo di questo incontro e quindi di formulare diciamo anche di interrompermi di dialogare diciamo su questi temi perché sono temi sui quali come diceva giustamente la dottoressa Ambrosini non abbiamo delle ricette sostanzialmente precostituite e quindi dobbiamo cercare di costruire una sorta di diciamo ragionamento che ci individua che ci conduce quantomeno ad individuare quali sono gli elementi di criticità e quali sono le possibili strade per superare queste criticità allora io passerò diciamo nella prima parte di questo mio intervento un po' il rassegna agli strumenti giuridici tradizionali che noi abbiamo sul campo però vi dico subito che diciamo cercherò poi di andare velocemente a quello che io ritengo sia il cuore del problema nella costruzione di reti museali o comunque diciamo di accordi di cooperazione in ambito culturale e lo annuncio subito in modo tale che poi diciamo possiamo anche confrontarci su questo tema la mia particolare visione è questa qua noi abbiamo tantissime fonti giuridiche che ci consentono molte delle quali voi già conoscete io sarò costretto a ripassarle i rassegni al codice del bene culturale al codice di programma le convenzioni il testo unico degli enti locali e via dicendo abbiamo diciamo dal punto di vista della normazione giuridica abbiamo tutti gli strumenti potenzialmente in grado di che ci mettono nelle condizioni di poter operare abbiamo un buco importante invece che è quello del codice dei beni culturali che poi analizzeremo ma nonostante diciamo la pluralità delle fonti normative che ci consentono in qualche modo di avviare processi di cooperazione su base territoriale per qualificare i servizi culturali i servizi museali i servizi di accoglienza e anche diciamo le connessioni tra gli attori che operano direttamente in campo culturale e gli altri attori produttivi e non del territorio non siamo ad oggi in Italia nelle condizioni in cui possiamo dire di aver individuato diciamo un modello di gestione che ci consente di poter come dire gestire diciamo questo elemento della cooperazione in una maniera stabile perché i casi in Italia sia di accordi di valorizzazione sia di accordi di cooperazione sono diciamo del tutto insufficienti rispetto alle necessità che noi abbiamo di fronte da una parte dall'altra eccetto casi a macchia di topardo cioè noi abbiamo dei casi che hanno funzionato delle formule sulle quali diciamo si è gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo che hanno dato vita anche a dei risultati interessanti però complessivamente su questo terreno siamo molto molto indietro e dunque uno diciamo dei temi che io vorrei affrontare insieme a voi e cercare di capire perché non ha funzionato fino ad oggi tutto questo nonostante gli sforzi perché non è che non siano stati realizzati degli sforzi in questa direzione immagino che voi e poi lo passeremo un po' in rassegna con questo discorso per esempio il MUST è stato un programma con il quale il ministero ha cercato di costruire anche delle linee guida addirittura individuando dei progetti pilota su base regionale peraltro che potessero in qualche modo fungere da trai per la costruzione di sistemi integrati territoriali in ambito museale ma anche quell'esperienza che poi vedremo diciamo è un lavoro insomma anche assolutamente preggevole però anche quell'esperienza ad oggi sostanzialmente ha dato dei risultati poco sul piano pratico applicativo diciamo poco convincenti e quindi diciamo dobbiamo partire da questa fotografia e dobbiamo tentare di sforzarci di insomma capire dove sono addensate le criticità e come le possiamo sostanzialmente superare allora io cercherò diciamo di passare veramente in rassegna velocemente alcuni diciamo proprio il quadro normativo generale partendo chiaramente dalla costituzione che voi conoscete benissimo e da un articolo in particolare della nostra costituzione che è l'articolo 117 che attribuisce allo Stato alcune competenze esclusive come voi ben sapete e che attribuisce invece alcune materie alla legislazione concorrente con le regioni e la materia principale della soggetta legislazione concorrente è appunto la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali quindi questo diciamo è il quadro come dire dal quale come tutti noi dobbiamo partire che peraltro anche su questo sappiamo bene diciamo quante difficoltà ha generato diciamo l'autonomia e il principio della legislazione concorrente anche in materia di beni culturali poi abbiamo diciamo una declinazione anche diciamo di questo principio ed è il codice dei beni culturali il codice dei beni culturali è permeato da questo principio della cooperazione cioè se noi lo percorriamo interamente nel codice troviamo tantissime disposizioni che sono destinate alla costruzione di intese convenzioni modelli di cooperazione con tra lo Stato e gli enti pubblici altri enti pubblici particolare le regioni ma anche gli enti locali diciamo territoriali e il cuore possiamo dire delle disposizioni che vanno in questa direzione è contenuto in materia di valorizzazione nell'articolo 112 del codice dei beni culturali il quale articolo 112 contiene una serie di disposizioni che ora passeremo in rassegna e attribuisce soprattutto ad uno strumento che è quello degli accordi di valorizzazione la diciamo lo strumento individua negli accordi di valorizzazione lo strumento per delineare degli accordi di cooperazione tra l'amministrazione statale e gli altri soggetti pubblici per realizzare forme integrata di gestione e di valorizzazione dei beni culturali in particolare il comma 4 dell'articolo 112 ci dice che lo Stato le regioni e gli altri enti pubblici territoriali questo un po' lo dobbiamo leggere voi lo conoscete sicuramente bene però qui dentro ci sono parecchie cosucce da approfondire gli altri enti pubblici territoriali stipolano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente beni culturali di pertinenza pubblica gli accordi possono essere conclusi su base regionale o su base sub o sub regionale il rapporto ad ambiti territoriali definiti e promuovono altresì l'integrazione nel processo di valorizzazione concordate delle infrastrutture attenzione e dei settori produttivi collegati gli accordi possono anche riguardare beni di proprietà privata previo a consenso degli enti interessati lo Stato stipola gli accordi tramite il per il tramite del Ministero che opera di intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti allora questa disposizione diciamo è veramente ambiziosa interessante ricca di spunti c'è tanta roba in questa diciamo norma innanzitutto si individua diciamo una progettazione strategica per lo sviluppo culturale a base territoriale viene prevista la possibilità che all'interno di questi accordi ci sia anche un processo di integrazione con le infrastrutture e i settori produttivi collegati quindi siamo ad un livello diciamo avanzato di progettazione strategica e accanto alla progettazione strategica c'è una possiamo definirla una diciamo definizione programmatica del dell'azione pubblica su questo tema e poi abbiamo la possibilità che questi accordi riguardino anche beni di proprietà privata quindi si intravede diciamo un'apertura importante che ci consente di allargare il processo di valorizzazione anche a beni in capo a soggetti privati il comma 5 di questa disposizione ci dice che per l'attuazione dei piani strategici di sviluppo culturale lo Stato e le altre amministrazioni competenti partire dalle regioni possono costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani il comma 7 ci dice una cosa meravigliosa cioè che con decreto del ministero sono definite le modalità e i criteri in base ai quali il ministro costituisce il ministero costituisce o partecipa ai soggetti giuridici indicati al comma 5 ora qua siamo ad un primo elemento di criticità che dal mio punto di vista ha ritardato l'applicazione di questi strumenti e che io ho descritto diciamo in questa slide perché cosa è accaduto questa norma contenuta nell'articolo 7 che impone per l'attuazione per la costituzione di soggetti giuridici impone l'adozione di un regolamento recante la disciplina per la costituzione di questi soggetti giuridici non è mai stato adottato ma in origine non era così perché questa possibilità era contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo 368 del 1998 che regava appunto l'istituzione del ministero dei beni e delle attività culturali che non solo autorizzava il ministero a partecipare o a costituire soggetti giuridici privati e anche in quel caso si rimandava ad un decreto ministeriale che fu regolarmente adottato nel 2001 cosa poi è accaduto con l'intervento del codice dei beni culturali il codice dei beni culturali ha riportato al centro gli accordi di valorizzazione la disposizione contenuta nell'articolo 112 comma 5 e anche in quel caso ha previsto l'adozione come abbiamo visto al comma 7 di un decreto ministeriale che ne disciplinasse la possibilità di costituire soggetti giuridici privati ma nel fare questo ha abrogato l'articolo 10 del decreto legislativo 368 del 1998 non il decreto ministeriale ha abrogato diciamo la disposizione legislativa ma nel frattempo siccome non è mai stato adottato quel regolamento di cui al comma 7 noi ci troviamo in questa situazione paradossale abbiamo un regolamento esistente oggi mai abrogato ma che fa riferimento ad una disposizione legislativa che invece è stata abrogata e abbiamo una disposizione legislativa che è quella del 112 che è priva di regolamento quindi questo elemento è un elemento diciamo che ha sicuramente ritardato diciamo l'applicazione di questa di questi diciamo processi di cooperazione e poi lo vedremo diciamo nello sviluppo del ragionamento perché secondo me questo è stato diciamo un elemento molto importante però ne abbiamo un'altra di disposizione dell'articolo 112 sempre del codice dei beni culturali e del comma 9 questa è una delle disposizioni più ignorate diciamo su questo tema che invece secondo me potrebbe essere è una delle più preziose disposizioni su questo tema allora cosa ci dice il comma 9 dell'articolo 112 ci dice che indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 quindi da i piani strategici di sviluppo culturale possono essere stipulati accordi fra lo Stato e le altre amministrazioni quindi le regioni e gli altri enti pubblici territori e guardate bene e i privati interessati quindi qua c'è un'apertura netta ai soggetti privati per fare cosa per fare cosa per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali gli accordi possono essere con gli accordi medesimi possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione degli uffici comuni inoltre si dice per le stesse fonalità ulteriori accordi possono essere stipulati sempre dal ministero dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali con associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali ora guardate questa disposizione allora contiene tantissime tantissimi spunti secondo me superiori a quelli che abbiamo diciamo analizzato in precedenza allora innanzitutto qui abbiamo la possibilità che le amministrazioni statali insieme a dei soggetti privati possano definire un livello di cooperazione necessario per regolare servizi strumentali comuni esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno per attuare diciamo le reti museali le reti museali non sono altro che sostanzialmente un accordo fra soggetti che consentono di gestire in forma coordinata integrata alcuni servizi strumentali ai processi di fruizione di valorizzazione patrimonio culturale in un dato ambito territoriale poi si dice che con questi accordi possono essere istituite forme consortiti non imprenditoriali allora questa formula perché il nostro legislatore ha una creatività impressionante e noi lo scopriamo ogni giorno veramente ogni giorno è una scoperta di questa creatività giuridica diciamo allora utilizza queste espressione forme consortili non imprenditoriali e noi siamo da vent'anni che ci interroghiamo ma cosa ha voluto intendere il legislatore quando ha parlato di forme consortili non imprenditoriali a cosa aveva in mente diciamo e me se noi sciogliamo questo tema sostanzialmente questo comma 9 non è mai veramente diciamo stato applicato ma cosa ci dice in più il comma 9 ci dice che ulteriori accordi ulteriori accordi possono essere stipulati anche con associazioni culturali o di volontariato per realizzare forme diciamo di valorizzazione integrata allora vediamo quali sono le criticità e come possiamo tentare diciamo di superare dal mio punto di vista alcune delle criticità presenti in queste disposizioni allora in primo luogo allora noi abbiamo necessità di sciogliere il tema delle forme consultive non imprenditoriali individuare quali sono i servizi strumentali comuni perché questo è un altro tema sul quale in dottrina si è diciamo ragionato e diciamo quali sono le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati queste sono diciamo le tre problematiche alle quali noi dovremmo dare una risposta allora vi dico la mia umilissima forse diciamo eh inadeguata ma però frutto diciamo di un ragionamento che dura da tempo su questi temi e quindi tra forse pure inadeguata o comunque non ma è il frutto diciamo di un approfondimento molto solido ed è quello che io sto cercando di proporre al ministero nelle mie varie funzioni diciamo di eh io sono consulente di diversi istituti del ministero ehm quindi da direzione regionale musei Lazio e quindi tutto il sistema museale regionale direzione regionale musei Calabria parco archeologico di Sibari parco archeologico dei campi Reggio di Casetta e via dicendo e poi sono nel tavolo tecnico eh della DG per le forme di cooperazione pubblico privato che ehm riguardano appunto i temi diciamo in parte di cui stiamo oggi discutendo allora ehm allora qual è diciamo quindi come possiamo sciogliere questi noti uno eh per quanto mi riguarda per forme consortili non imprenditoriali che è una espressione possiamo quasi dire a tecnica però qua legislatore ha voluto dire individuare delle forme associative fra i soggetti che eh sostanzialmente fossero dirette non alla produzione diretta di un'attività di impresa ma a regolare appunto dei servizi propedeutici alle attività di fruizione e di valorizzazione ok quindi e lo vedremo subito dopo fa riferimento ai consorsi sicuramente quella è una diciamo delle ipotesi ma dal mio punto di vista non eh diciamo l'espressione in forme consortili non inevitabilmente restringe il campo di applicazione di questa norma solo e esclusivamente ai consorsi dal mio punto di vista la forma associativa non parlo neanche di quella fondazionale che già presenta diciamo delle problematiche più rilevanti ma l'adozione della forma associativa cioè un'associazione costituita ai sensi del codice civile tra soggetti pubblici come ne abbiamo tantissime peraltro nel nostro paese eh può essere la risposta pratica a questo termine forme consortili non imprenditori un'associazione priva di scopo di lucro che non persegue evidentemente direttamente diciamo un'attività di imprese ma serve per regolare diciamo e costruire gli uffici comuni per la gestione integrata di alcune attività quali sono vediamolo questo forse lo dico lo dico lo dico qua allora quali sono quali potrebbero essere i servizi strumentali comuni dal mio punto di vista e questo è ripeto il ragionamento che io ho offerto al ministero e sul quale si sta ragionando per sciogliere diciamo questo tema allora quali sono questi servizi strumentali bigliettazione promozione territoriale sviluppo di iniziative chiaramente di progetti comuni possibilità che le varie organizzazioni pubbliche accedano a finanziamenti pubblici e privati nella come dire eleggendo questo soggetto giuridico ok come elemento come soggetto che accede a questo tipo di finanziamenti promozione di iniziative di fan racing promozione pubblicazione di studi ricerche relativi all'ambito dei beni culturali che è chiaramente promozione di attività educative di percorsi didattici sui temi collegati alle raccolte museali elaborazione questo è importantissimo di itinerari turistico culturali comuni promozione di collaborazione con altri istituti con altri enti con le università e con diciamo eventualmente soggetti privati questo è secondo me il perimetro possibile delle attività di diciamo che il legislatore indica come attività strumentali alla fruizione e alla mobilizzazione dunque non siamo nella gestione diretta cioè non siamo di fronte ad un istituto giuridico privato che gestisce direttamente i singoli musei o diciamo un museo ma siamo di fronte ad un'organizzazione che consente di realizzare semplicemente dei servizi che sono resi nell'interesse comune di tutti i soggetti che appartengono alla rite ora terzo elemento poi lo vedremo diciamo anche dopo lo accenno ma io prima nella discussione che facevamo prima di collegarci con voi tutti già dicevo la mia insofferenza delle slide per cui perché nella costruzione del ragionamento ho sempre difficoltà a seguire rigidamente tutti i vari passaggi per cui delle cose diciamo che dico le anticipo ma magari sono in altre slide non quella che state diciamo visualizzando però il terzo tema è noi come facciamo a includere soggetti privati allora finché siamo nel campo della collaborazione tra istituzioni pubbliche non abbiamo grandi problemi se invece siamo nel campo della in cui ci sono anche soggetti privati oppure soggetti giuridici privati che hanno una derivazione pubblica è un altro tema ancora come facciamo ad includerli all'interno di un processo di questo tipo è necessario o meno un processo di evidenza pubblica questo è la terza domanda che noi dobbiamo uscire dal mio punto di vista ve lo dico se se il soggetto privato il soggetto giuridico privato non ha compiti diretti di gestione e quindi non realizza sostanzialmente sul mercato nessun tipo di attività diretta di gestione l'inclusione dei soggetti privati non necessiterebbe in maniera come dire inevitabile del processo di evidenza pubblica ma in ogni caso un processo di evidenza pubblica per includere i soggetti privati all'interno di un progetto di questo tipo sinceramente è l'ultimo dei problemi possibili perché è evidente che se noi attraiamo dei soggetti giuridici privati i quali partecipano a in qualche modo anche in termini finanziari a costituire un fondo patrimoniale per consentire a questo istituto giuridico privato di operare ma allo stesso tempo ci si avvale anche di risorse pubbliche e diciamo il processo di evidenza pubblica sinceramente non lo trovo né sconveniente anzi io lo trovo utile perché un processo di evidenza pubblica che apre ai soggetti privati che sono interessati a partecipare a processi di questa natura ma chiaramente che hanno un'attinenza diciamo diretta allo svolgimento diciamo di queste attività io penso che sia un processo assolutamente interessante oltre che poi garantisce diciamo tutti i principi tipici dell'ordinamento omistrativo l'apparenza parità di trattamento e via di città ora ci dobbiamo chiedere com'è possibile e su questo io veramente vorrei sollecitare una riflessione anche della dottoressa Ambrosini e della dottoressa Ferrari e di chiunque di voi diciamo vuole intervenire secondo voi perché noi cioè diciamo il tema che ci dobbiamo porre è come è possibile che noi abbiamo delle norme che ci consentono di correre su questo versante e ad oggi il nostro sistema pubblico invece ha avuto una timidezza enorme a percorrere strade di questa natura certo lo Stato come dire è stato timido evidentemente per molti anni negli ultimi anni secondo me le cose sono un po' cambiate ma per molti anni è stato molto timido su questo su questo terreno però io penso che questo tema ci avvicina ad un problema diciamo al problema principale dal mio punto di vista e cioè è possibile che noi costruiamo processi di cooperazione in un momento storico di grandissimo indebolimento dal punto di vista delle risorse finanziarie delle risorse del personale soprattutto in ambito culturale quindi risorse umane senza senza diciamo una un processo di cooperazione virtuoso ispirato diciamo ai migliori principi del nostro ordinamento in particolare quello della sussidiarietà senza il contributo l'apporto e la collaborazione con i soggetti privati questo è secondo me il tema principale diciamo che secondo me è anche la risposta alla domanda che ci siamo posti all'inizio come mai questo meccanismo in Italia ha subito un rallentamento fortissimo e soprattutto dottoressa Ambrosini questo è uno dei grandi temi cioè noi abbiamo tanti accordi di valorizzazione ma questi accordi di valorizzazione siccome non hanno generato diciamo degli strumenti giudice delle come dire degli strumenti attuativi di questi accordi sostanzialmente si sono limitati alla fine sul piano pratico a enucleare tantissime buone intenzioni in alcuni casi si è veramente costruito un piano strategico di sviluppo culturale pochi 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 ma manchiamo sostanzialmente dello strumento di attuazione di queste reti cioè sono delle come dire delle intese poi le vedremo anche diciamo tra i vari strumenti giudici intese convenzioni articolo 15 c'era 241 90 gli accordi di programma tutta roba bellissima ma non ha che è priva diciamo di un braccio operativo e il braccio operativo non può essere secondo me solo ed unicamente ma è un primo passo necessario evidentemente cioè individuare un soggetto giuridico che aggreghi le organizzazioni pubbliche ma noi dobbiamo trovare anche poi la possibilità affinché questo soggetto giuridico si doti di un minimo di risorse che gli consente in un processo di cooperazione con i privati di poter realizzare quegli servizi strumentali ai processi di cui stiamo parlando cioè questa è secondo me diciamo una strada che noi possiamo efficacemente percorrere e questo è uno dei motivi per cui questo meccanismo rallentato da diciamo da diverse parti non ha trovato efficacemente diciamo una forma di diciamo vera di applicazione e quindi in tutto questo peraltro no? mi chiedo diciamo una cosa se noi cioè noi abbiamo una una innovazione nei processi istituzionali importantissima no? che sta avvenendo diciamo negli ultimi anni ma vi devo dire cioè io sono stato in audizione alla camera dei deputati circa dieci giorni fa perché nel decreto legislativo o meglio scusatemi nel disegno di legge di iniziativa governativa il cosiddetto Made in Italy ci sono come voi sapete alcune norme destinate al settore culturali e creativo tra cui c'è per esempio la disciplina delle imprese culturali e creative e c'è una disposizione dal mio punto di vista interessantissima che riguarda la possibilità per gli istituti luoghi della cultura di uso diciamo devo usare i termini giusti di realizzare una immagine coordinata in grado di esprimere anche diciamo l'identità del territorio o l'identità di una singola istituzione museale e di poter cedere poter cedere a soggetti terzi l'utilizzo di quella immagine di quel logo di quel marchio in una logica di valorizzazione territoriale è uno strumento sofisticato è una forma diciamo di branding che vi devo dire io per esempio ho realizzato sempre diciamo in assistenza tecnica per la reggia di caserta dove abbiamo realizzato proprio un regolamento per la concessione del logo del marchio reggia di caserta per quelle produzioni per quelle attività economiche che presentassero un elevato grado di connessione con l'identità non solo culturale ma anche produttiva del sito reggia di caserta e del sito diciamo borbonico e e abbiamo avuto anche dei risultati molto interessanti abbiamo già realizzato alcuni contratti in cui abbiamo disciplinato l'accessione a titolo oneroso evidentemente del marchio per esempio per la produzione di un licore che utilizza le erbe aromatiche che sono dentro il bosco e il giardino inglese della reggia di caserta che questo per dire solo cosa che noi abbiamo da più parti una serie di processi anche normativi innovativi abbiamo il grande tema della sussidiarietà abbiamo il grande tema della sussidiarietà orizzontale quindi della disciplina della sussidiarietà contenuta nel codice del terzo settore che come vedete per esempio il codice dei beni culturali ignora del tutto perché parla ancora di associazioni culturali di volontariato che nel nostro ordinamento sostanzialmente in particolare le associazioni culturali sono una grande mitologia ma non sono mai esistite così come abbiamo dicevo nel DDL Medianite la disciplina delle imprese culturali e creative che ci consentirà secondo me di fare un grandissimo passo in avanti perché per la prima volta in Italia appunto viene perimetrato il campo dei soggetti privati operanti in ambito culturale e vengono anche allestiti una serie di strumenti di cooperazione pubblico privato all'interno diciamo di quel di testo che è in discussione che peraltro speriamo dovrebbe arrivare diciamo in una fase di approvazione in giro di pochi mesi allora quindi abbiamo un mondo che intorno si muove e noi dobbiamo cercare secondo me di intercettare diciamo queste novità nel punto più alto e poi abbiamo uno strumento di cui vi parlerò subito dopo che diciamo il parteato speciale pubblico privato che era contenuto nell'articolo 151 del vecchio codice dei contratti pubblici il 50 del 2016 che è stato ora rinnovato nel nuovo codice dei contratti pubblici peraltro con una collocazione giuridica nuova ed è oggi contenuto nell'articolo 134 comma 2 del decreto legislativo 36 2023 che è appunto il nuovo codice dei contratti pubblici allora giusto per ora ritornare sul nostro tema dunque quali sono le forme che noi possiamo utilizzare allora il comma 9 dell'articolo 112 ci apre delle possibilità che secondo me noi dobbiamo iniziare a percorrere perché questa diciamo è la strada sulla quale diciamo possiamo dare delle risposte che peraltro si intersega con un altro tema che voi conoscete benissimo il decreto ministeriale del 2018 che individua appunto i livelli uniformi di qualità per i musei luoghi della cultura che peraltro anche su questo versante siamo in una fase di applicazione più spinta perché questo tema del sistema museale nazionale è un tema che sta incominciando ad avere un'applicazione concreta importante ora abbiamo una prima piattaforma digitale che consentirà a tutte le istituzioni museali che aderiscono chiaramente al sistema museale nazionale di poter gestire una bigliettazione online e quindi anche come dire che è uno dei grandi temi perché il tema della bigliettazione non è banale non è banale e voi lo sapete bene noi abbiamo tantissimi siti musei che faticano ad allestire il servizio di bigliettazione con personale diretto della pubblica amministrazione quindi il tema dell'adesione al sistema museale nazionale è un tema importante le reti possono sicuramente contribuire ad elevare gli standard dei singoli musei che magari faticano diciamo a stare dietro questi standard e possono consentire dunque di entrare in un meccanismo che evidentemente diciamo facilita molto i processi di diciamo anche valorizzazione integrata abbiamo altre fonti normative il testo unico degli enti locali le convenzioni che ci consentono diciamo di realizzare degli accordi fra enti locali e anche qui guardate il comma 4 dell'articolo 30 ci dice che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche il luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzione da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera il luogo e per conto degli enti deleganti è chiaro che loro non immaginavano il sistema funzione territoriale però questa è un'altra delle forme convenzionali che noi possiamo utilizzare per raggiungere gli scopi di cui stiamo discutendo e poi abbiamo l'accordo di programma sono cose che voi conoscete benissimo l'articolo 34 sempre del Tuer che ci dà la possibilità di realizzare un'azione integrata e coordinata di comuni di province regioni e di amministrazioni statali attivata proprio in questo caso diciamo dal presidente della regione per orientata a promuovere la conclusione di accordi per fare cosa per realizzare le cose di cui noi oggi stiamo parlando chiaramente diciamo nel nostro caso per appunto garantire come dice la norma il coordinamento diciamo di azioni congiunte per finalizzare diciamo ad un obiettivo che nel nostro caso potrebbe essere appunto l'obiettivo di realizzare un sistema integrato di gestione dei beni culturali su base territoriale poi dopo vi devo vi devo anche raccontare diciamo una cosa alla quale ci tengo molto interessantissima che potrebbe essere secondo me diciamo una forma questo quando affronteremo insomma le forme più innovative di gestione in particolare ci occuperemo del partenato speciale e poi abbiamo evidentemente le formule più usate più come dire in questo ambito che fanno riferimento alla legge generale sull'ordinamento amministrativo la 241 che come voi sapete all'articolo 15 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano concludere degli accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune questa è la formula tipica che viene utilizzata per realizzare accordi di cooperazione fra amministrazioni pubbliche che poi viene declinata diciamo in molti modi con nomi diversi protocolli di intesa accordi di cooperazione convenzioni ma sostanzialmente la base giuridica è questa qui allora io diciamo mi fermerei su questa primissima parte in cui abbiamo anche se chiaramente un po' velocemente passato in rassegna le possibili strumentazioni giuridiche che abbiamo a disposizione oggi ce ne sarebbero anche altre in realtà per esempio anche il decreto legislativo del dicembre 2022 che il testo unico sui servizi economici di interesse generale degli enti locali che disciplina ulteriori possibilità per organizzare anche in forme aggregate servizi aventi in quel caso rilevanza economica ma ripeto diciamo il tema secondo me ci sono anche dei problemi sul piano evidentemente dell'ordinamento e lo abbiamo visto in particolare quando abbiamo analizzato diciamo il codice dei beni culturali resta però il tema di fondo se noi facciamo un bilancio di questa esperienza dei reti museali ci rendiamo conto che sono prive di strumenti di attuazione e quindi per superare dicendola veramente in breve almeno questa è la mia visione chiaramente io vi offro diciamo questa visione poi ora mi fermo 5 minuti 5 10 20 quanto vogliamo diciamo e magari abbiamo una prima riflessione su questi aspetti però noi dobbiamo fare due cose che peraltro mi sembra che la regione Mila Romagna come al solito essendo una regione molto avanzata sta già prefigurando e cioè dobbiamo dotare di risorse finanziarie i soggetti che si mettono sul cammino della cooperazione dobbiamo certamente costruire un piano strategico noi dobbiamo avere una visione precisa della identità diciamo chiamiamola così che vogliamo conferire al nostro progetto di valorizzazione culturale territoriale ma dobbiamo avere degli strumenti applicativi che per quanto mi riguarda passano necessariamente attraverso le istituzioni di soggetti giuridici privati e dobbiamo estendere questo è diciamo il quarto punto per me fondamentale il sistema di cooperazione tra pubblico e privato perché guardate queste associazioni allora è un tentativo disperato che io sto facendo in una delle regioni più complicate del nostro paese che è la Calabria in un'area tra le più complicate della Calabria cioè il nord un'area al nord della Calabria che è l'area della Sibaritide dove abbiamo un grande importante attrattore che è il parco archeologico di Sibari un'area diciamo che ha una storia importantissima dove stiamo realizzando insieme ad una all'effervescente e bravissimo direttore che è il Filippo Demma che dirige diciamo il museo archeologico di Sibari ma anche la direzione regionale del museo della Calabria per ora abbiamo realizzato un accordo di cooperazione con tutti i comuni della Sibaritide 13 comuni quindi tra amministrazione statale e i comuni della Sibaritide e ora ci stiamo ponendo il secondo step che è quello appunto non solo di definire un piano di sviluppo culturale integrato ma anche quello di definire diciamo un soggetto giuridico che ci consenta di sostanzialmente operare in una insomma forma concreta dopodiché noi queste associazioni queste fondazioni questi consorsi insomma non dobbiamo fargli fare grandissime cose secondo il mio punto di vista ma dobbiamo semplicemente devono essere degli enti in cui si compone la volontà dei soggetti che vi partecipano che diventano diciamo anche degli strumenti che possono sostanzialmente attrarre risorse pubbliche private ce ne sono tanti anche di forme attraverso le quali diciamo questi soggetti immaginiamo anche l'art bonus per esempio per i lavori di restauro per i progetti di gestione c'è tanta roba diciamo che potrebbe essere attivata intorno ad esperienze di questa natura e che poi si avvale di soggetti privati in processi di cooperazione o anche facendo voglio dire riferimento pure ai tradizionali strumenti diciamo di affinamento dei beni servizi del codice dei contratti pubblici non è che dobbiamo necessariamente percorrere gli stacoli diciamo mostrate che consentono di dare diciamo concretezza agli obiettivi spesso belli molto ambiziosi anche in alcuni casi scritti diciamo molto bene ma che poi restano sulla carta perché se ad articolare diciamo l'attuazione di quegli obiettivi devono essere le singole amministrazioni pubbliche e diciamo anche sul piano operativo una cosa che effettivamente diciamo è proprio difficile da realizzare voi lo sapete bene soprattutto con le norme diciamo che disciplinano le procedure pubbliche in Italia quindi su questa riflessione mi piacerebbe aprire un attimo diciamo il ragionamento e poi passeremo anche alla seconda parte che invece in cui vi illustro secondo me uno strumento importantissimo che è quello del parteato speciale pubblico privato in campo culturale che apre ulteriori possibilità intervengo un attimo io intanto che magari anche altri riescono a formulare una proposta di domanda o di approfondimento sì allora condivido l'analisi che è stata fatta da Marco perché ancora una volta mi piacerebbe sottolineare il fatto che intorno al 2000 insomma col codice dei beni culturali nel 2004 la visione era stata data ed era molto promettente poi la realtà dei fatti si è scontrata con i particolarismi anche di tipo giuridico amministrativo di impostazione delle varie organizzazioni e questo credo che i partecipanti a questo a questo corso possano portare snocciolare tante esperienze dirette quindi non è il caso di dire ma ci sono venute in mente no anche tante tante ipotesi portate avanti e favorite da livelli ministeriali regionali provinciali ecco quindi io tornerei a indagare e a farmi stimolare dalla tua domanda chiediamoci perché non hanno funzionato perché forse partendo dal perché non hanno funzionato dobbiamo capire no che cosa riusciamo che cosa vogliamo e fino a che punto possiamo spingerci perché qui nel nostro parterre ci sono i tecnici ci sono gli operatori museali ci sono i direttori conservatori chi si occupa di didattica chi è factotum ok non c'è l'amministratore non c'è il politico che decide perché il tema è poi quello no che dobbiamo convincere convincere gli amministratori ad andare in una certa direzione devono poter vedere un vantaggio di lunga gittata cioè noi stiamo ragionando per darci delle degli strumenti operativi attuativi che possono garantire una vita durevole a queste situazioni ho capito bene cioè è quello che stiamo rincorrendo da tanti anni esattamente durevole nello stesso tempo flessibile perché il mondo è cambiato prima e post 2020 e quindi tu hai fatto giustamente c'è uno sistema museale nazionale la regione miglia romagna ci sta credendo fortemente e si sta impegnando nel livello del sistema museale regionale sempre pensato concepito come parte integrante di quello nazionale con delle realtà che sono molto cambiate noi guardiamo riportiamo una fotografia d'epoca della realtà museale dell'Emilia Romagna ma possiamo fare anche della Lombardia del Lazio della Toscana intorno agli anni 2000 con il boom il fiorire di tanti piccoli musei territoriali vivaci etnografici civiltà contadine e quant'altro sentiti voluti perseguiti con grande volontà delle comunità anche se poi andiamo verso il 2010 2009 2010 con il tentativo di standardizzare dire guardiamoci in faccia vediamo chi siamo che cosa abbiamo in comune che standard possiamo offrire e quindi per la regione Emilia Romagna i musei di qualità che è stato la regione Lombardia aveva il suo riconoscimento la regione Emilia Romagna ha fatto i musei di qualità adesso con l'accreditamento rispetto al sistema museale nazionale che è stato concepito prima del covid è tutto da rifare e noi lo stiamo dicendo a grandi linee e i nostri i nostri lo stiamo dimostrando noi stiamo stiamo vivendo la terza finestra di accreditamento ma abbiamo iniziato post pandemia post DM 113 del 18 siamo partiti a fine 2021 quindi abbiamo fresca la realtà che è cambiata e quanto di più necessario ci sia del capire insieme qual è il piano strategico cioè qual è il discorso di quali reti che dimensione per che cosa bigliettazione progetti comuni studi scientifici rapporti con gli enti di ricerca oppure oppure ma questo è un mio parere vorrei sentire gli altri e mi taccio anche servizi fondamentali per garantire la vita del museo ok perché nei piccoli e i tanto piccoli musei il problema della bigliettazione è un non voglio dire che è un falso problema ma non è cioè tanti hanno ancora l'ingresso l'ingresso libero neanche gratuito libero ok per scelta ma perché fatti i conti è meno è meno oneroso che avere il biglietto lo sai bene ok quindi i servizi da condividere in questo momento ma questo è il nostro osservatorio e ci tengo a capire invece cosa ne pensano gli altri partecipanti è quello dei servizi fondamentali nei confronti della gestione del patrimonio e l'esperienza delle miglia romagna e della romagna con l'alluvione ma a maggio e col terremoto del 2012 l'ha dimostrato pienamente patrimoni che non sono solo del pubblico ma anche di molti soggetti privati perché noi abbiamo aperto alle case delle persone illustre che per il 70% afferiscono soggetti privati soggetti economici e soggetti no profit quindi benissimo un affondo sul partenariato speciale pubblico privato nella nuova versione perché anche in tante occasioni come Artlab Lubeck a cui noi partecipiamo attivamente nel coordinamento delle regioni stiamo andando a scandagliare a fare i carotaggi dove funzionano allora il partenariato pubblico privato a Bergamo è cavoli certo che funziona ma lì c'è un privato solido c'è un privato importante ok voglio dire come in altre zone quindi hai dato tantissimi spunti ma adesso io un po' scatenata così vorrei anche sentire i partecipanti che diranno ma noi siamo piccoli siamo calimeri siamo no no perché il tema poi è un po' questo che torna bene grazie Cristina e grazie Marco la chiamata è stata abbastanza diretta qualcuno vuole prendere parola buongiorno mi sentite? sì benissimo sono Riccardo Balestra faccio parte di un gruppo un gruppo nazionale si chiama Rimediare partecipiamo anche noi mi aggancio subito all'intervento precedente partecipiamo anche noi a Artlab a Bergamo conosciamo benissimo la situazione e la realtà mi aggancio forse solo su una riflessione riguardo alle realtà piccole che sono effettivamente quelle che hanno un po' più di problemi se vogliamo realtà piccole sia a livello geografico che anche a livello proprio anche cittadino in ogni città sono realtà piccole e così anche nei libri comuni una delle soluzioni una delle anche delle problematiche che si riscontra quello che abbiamo riscontrato a livello anche interregionale è sicuramente la condivisione di buone pratiche da una parte dall'altra anche la condivisione degli errori per una sorta di pedagogia dell'errore che spesso non viene sottolineata vuoi per paura di non rispondere a determinati criteri quantitativi qualitativi però o di fare una figuraccia invece la condivisione dell'errore dire io ho sbagliato in questo oppure abbiamo visto che questo non funziona più che dire questo funziona la domanda che dobbiamo farci è se questi luoghi come i musei centri culturali biblioteche sono luoghi che fanno bene perché tendenzialmente dovremmo veicolare una sorta di di benessere di società e ci chiediamo perché effettivamente l'Italia è tra gli ultimi posti la produzione culturale l'Italia cioè nel senso che la domanda che dobbiamo farci è se realmente fa bene alla salute questi luoghi se fa bene alla salute bisogna che in qualche modo si veicoli questo messaggio e quindi la condivisione di buone pratiche ma anche una pedagogia dell'errore e un'altra cosa che forse tendenzialmente potrebbe aiutare a superare determinati tipi di crisi sistemiche è anche il fatto di non concentrarsi sul silos cioè il museo non è solo un raccoglietore di oggetti cioè il museo e lo stesso anche le persone che lavorano all'interno di un museo non sono solo funzionari museali sono persone che sono persone di prossimità ma qualsiasi ruolo che si hanno dai volontari alla biglietteria a qualsiasi persona ha una responsabilità di cura nei confronti delle persone che vengono e in quel modo lì noi possiamo in qualche modo tramite musei tramite biblioteche creare una comunità della cura che veicoli delle buone pratiche questo è fondamentale però non ci come dire concentrarsi solo sul museo che il museo è uno spazio un luogo dove ci sono esposti degli oggetti quello non è non è più quello il museo oggi non può esserci più quella necessità d'altro Riccardo cediamo del tu così agevoliamo diciamo un po' tutta la discussione io sottoscrivo tutto quello che tu hai detto sottoscrivo anche quello che ha detto in precedenza Cristina e questo mi fa enormemente piacere perché vedo che abbiamo diciamo un sentire comune su questi temi vi posso condividere una cosa magari può darsi che voi già conosciate però vi faccio vedere anzi ditemelo se ne avevate diciamo contezza di questo sicuramente Cristina sì e anche gli altri funzionari della regione però allora il ministero in questo tentativo diciamo di sforzo di costruire progetti di sviluppo locale che vanno un po' anche in quella direzione che diceva Riccardo evidente che le istituzioni museali non come dire esauriscono dentro di sé la loro funzione e quindi oggi più che mai si pone il tema del rapporto tra le istituzioni come dire le raccolte e tutti i temi della contemporaneità e tutti i temi anche in qualche modo che riguardano io dico apertamente diciamo il disagio e quindi la possibilità che la cultura sia uno strumento per accogliere anche il disagio e i temi drammatici anche che la contemporaneità ci pone allora vi voglio veramente velocemente portare farvi fare diciamo un un blitz in questi progetti che al quale il ministero ha dedicato molta attenzione sono dei progetti pilota individuati in tutte le regioni per tentare di costruire di eh sistemi di integrazione di eh diciamo di valorizzazione integrata allora mh poi andiamo subito anche sulle Mila Romagna perché è interessante diciamo capire mh cosa è stato ideato per esempio in Abruzzo fu ideato questo progetto la la ciclovia Tiburtina Valeria come vedete eh qui eh si è individuato un ambito cioè la metodologia è questa individuazione di un ambito territoriale individuazione all'interno di quell'ambito territoriale di un elemento di connessione culturale mh e intorno a quell'elemento di connessione culturale la costruzione di un progetto di valorizzazione non solo culturale ma che tenesse dentro anche una prospettiva diciamo di sviluppo in termini di capacità di attrazione eh turistica o comunque diciamo di ehm chiamiamola accoglienza mh e ehm all'interno diciamo di questi eh progetti mh sono stati individuati diciamo dei percorsi interessantissimi no? ehm in in tutte le eh regioni immaginate vedete la Calabria no? un viaggio nel territorio tra minoranze linguistiche calabrisi questo per esempio cioè è una delle grandissime ricchezze di cui dispone quella regione eh che tiene dentro è veramente eh diciamo una sorta di piccola babbele italiana per evidentemente per tutti i motivi storici e qua si era tentato di costruire un progetto che tenesse dentro ehm la realtà greganica della regione eh Calabria attraverso diciamo un sistema che mettesse in rete l'università la fondazione di studi albanesi eh il pollino eh il museo della lingua greco Calabria e via dicendo e eh sostanzialmente con veramente una progettualità di eh grandissimo respiro vediamo la regione l'Emila Romagna in Emila Romagna si costruì questo ipotetico percorso che era i complessi monastici di Parma eh patrimonio di conoscenze tra antichi sapere e nuovi valori anche qui io lo diciamo eh era eh sostanzialmente eh un un progetto eh che eh consideravo eh diciamo che ho considerato quando insomma ho incominciato a leggere molto interessante che puntava la costruzione appunto di un percorso integrato tra i complessi monastici eh di Parma che poggiava già su alcune eh forme partenariali attivate tra le varie organizzazioni pubbliche il referente peraltro era Vito Vattanzi un bravissimo ehm diciamo ehm studioso e archeologo ehm e però sostanzialmente di questi progetti pilota così ben strutturati così ben congegnati vi devo dire e probabilmente se voi me ne darete atto diciamo a partire dall'Emilia Romagna sostanzialmente non ne abbiamo eh realizzato quasi nessuno hm quindi però non senza buttare diciamo a mare eh tutto hm eh questo diciamo lavoro ci indica che sostanzialmente eh la possibilità di costruire dei processi di dialogo e eh la possibilità di costruire effettivamente diciamo dei piani strategici di sviluppo culturale il nostro paese esiste ed è molto viva ed è eh diciamo eh tiene dentro delle possibilità importantissime eh dobbiamo hm semplicemente ritornare al tema eh principale e cioè come eh dare eh effettiva attuazione diciamo a questo anche eh sforzo eh che nel corso degli anni è stato fatto allora se non ci sono subito altre interventi ma eh veramente intervenite in qualunque momento diciamo lo ritenete necessario io però vi voglio invece eh raccontare questa eh diciamo questo strumento ehm e soprattutto voglio anche rispondere alla in primo luogo alla domanda che poneva Cristina ma questo partenato speciale di cui tanto sentiamo parlare ma ehm quali sono i casi di applicazione allora io vi parlo dei casi che noi abbiamo applicato su nell'ambito dell'amministrazione statale quindi beni culturali statali e il primo progetto che abbiamo costruito in Italia ha riguardato il parco archeologico dei campi Flegrei che è un parco a rete quello è già una rete Cristina perché è un parco disseminato peraltro preziosissimo dal punto di vista diciamo della testimonianza storica e un parco che si estende diciamo su cinque comuni dell'area diciamo metropolitana di Napoli Pozzoli Bacoli Montediprocida Quarto e Giuliano con 26 siti disseminati all'interno diciamo di questo perimetro di cui uno è uno dei più importanti parchi sommersi dei parchi archeologici sommersi uno dei più importanti al mondo come peraltro anche in virtù di quel particolarissimo fenomeno che ora sta agitando molto quei territori che è il fenomeno bradisittico allora lì sostanzialmente cosa abbiamo fatto allora teniamo conto di una cosa nella costruzione di questi progetti di rete museale e forse anche Riccardo ci sollecitava in questa direzione che non solo noi possiamo costruire progetti con le istituzioni museali esistenti ma possiamo anche attivare risorse che oggi sono inutilizzate o addirittura chiuse cioè come dire elementi del patrimonio che sono privi di qualunque forma di valorizzazione e che sono suscettibili invece di essere valorizzate sempre all'interno diciamo di un processo come quello che stiamo diciamo cercando di delineare allora nel caso del parco archeologico dei campi Fregreni noi abbiamo tirato fuori il primo partenato speciale pubblico privato ai sensi dell'articolo 151 in quel caso su beni statali che ha riguardato la possibilità di aprire due siti che erano chiusi uno era Piscina Mirabilis nel territorio di Bacoli e un altro era il Tempio di Serapidi due cose preziosissime vi parlo sono due progetti diversi che hanno avuto comunque diciamo un primo esito importante vi parlo in particolare di Piscina Mirabilis che è stato un po' il gioiello di questa esperienza noi cosa abbiamo fatto con questo primo partenato speciale dunque abbiamo ingaggiato alcune organizzazioni territoriali e abbiamo attraverso la procedura appunto del partenato speciale costruito un rapporto di collaborazione con un raggruppamento di soggetti all'interno del quale ad oggi fa parte anche la cooperativa Paranza di Napoli che immagino voi conosciate o ne quanto meno ne avete sentito parlare i quali hanno sostanzialmente sono assunti la responsabilità insieme a noi di riaprire questi siti in particolare appunto Piscina Mirabilis e di farne quindi non solo di allestire diciamo un'attività di fruizione di valorizzazione ma di farne anche una sorta di piccolo tentativo diciamo di sviluppo territoriale a base culturale allora gli esiti quali sono stati Cristina che noi avevamo un sito chiuso peraltro che suscitava da sempre tantissima curiosità perché è una delle più antiche e una delle più importanti e grandi cisterne romane che oggi noi abbiamo in Italia e quindi nel mondo che peraltro diciamo ha delle particolarità incredibili anche dal punto di vista diciamo delle luci perché è dotato di alcuni lucernai che poi in alcune ore del giorno fanno veramente conferiscono a quel luogo una sorta di magia quel luogo è stato riaperto con il rapporto di parteiato con questi soggetti i quali si sono anche dotati di un immobile che hanno avuto incomodato gratuito peraltro da una organizzazione che ne era proprietaria e quindi hanno allistito anche un sistema diciamo di bigliettazione di bookshop di accoglienza cosa che noi come amministrazione statale non saremmo stati in grado di fare perché chiaramente non avevamo quegli spazi e quindi come l'aggregazione di risorse pubbliche e private ha consentito diciamo di migliorare molto anche questo ragionamento e ad oggi ve la tiro diciamo giù velocemente il tempo poi stringe abbiamo a distanza di due anni uno standard di dopo il secondo anno nonostante il covid e quindi tutte le problematiche che abbiamo dovuto subire chiaramente nella fase di prima attuazione di questo progetto abbiamo sostanzialmente viaggiamo intorno ai 30.000 visitatori annui sulla piscina Mirabilis abbiamo quattro unità di personale che sono state assunte nella gestione di quelle attività un accordo di partenato speciale che prevede che il parte del privato trattenga chiaramente gli introiti i proventi derivanti dalle attività di accoglienza visita guidata realizzazione di eventi culturali eccetera eccetera e destini al parco semplicemente 2 euro per ogni visitatore che entra come forma di royalty che entra all'interno del sito questo ci ha consentito in breve di realizzare di valorizzare un sito che prima era chiuso di dare l'opportunità ad un raggruppamento di cooperative sociali di gestire quel sito e questo ha consentito di attivare quattro contratti di lavoro in un territorio che peraltro diciamo di lavoro ne ha tantissimo bisogno di realizzare dal punto di vista della amministrazione pubblica non solo un processo di valorizzazione di un bene che prima era chiuso ed era inibito alla frizione ma anche di introitare attraverso questo tipo di esperienza senza impiegare diciamo nessun personale diretto nella gestione di quei siti di introitare circa 60.000 euro in due anni di royalty quindi c'è un arricchimento anche dal punto di vista diciamo finanziario per l'amministrazione pubblica e poi abbiamo inoltre conseguito un altro importante risultato cioè condurre 30.000 visitatori in un territorio peraltro il comune di Bacoli non è diciamo un comune enorme un comune di più o meno ora non ricordo precisamente ma siamo intorno ai 30.000 abitanti e quindi di condurre 30.000 visitatori all'interno di un territorio i quali poi hanno sostanzialmente evidentemente anche prodotto diciamo un'economia per quel territorio ora sono scaduti i primi due anni di sperimentazione del partitato speciale dei campi reghei ora è proprio in questi diciamo giorni stato pubblicato anzi in queste settimane tra pochi giorni scadrà in realtà l'avviso pubblico perché abbiamo allargato il partitato speciale quindi abbiamo sostanzialmente previsto la possibilità di inclusione di altri siti all'interno diciamo del progetto di partenariato per cui per esempio nel caso di Piscina Mirabili ci sarà una parte di attività di valorizzazione del castello aragonese di Baia abbiamo dato la possibilità anche di ai privati sempre in una relazione diciamo di collaborazione quindi di partenariato speciale abbiamo dato la possibilità anche di gestire un punto in formazione il bookshop e anche un piccolo servizio di ristoro all'interno del castello di Baia e abbiamo inserito anche un altro sito che si chiama Centocamerelle sempre in quel territorio per quanto riguarda invece il versante Putilano abbiamo allargato Tempio di Serapide con un altro sito che è lo stadio di Antonino Pio un altro luogo straordinario secondo partenariato che abbiamo realizzato è invece la reggia di Caserta per la valorizzazione delle serre borboniche del giardino inglese della reggia di Caserta un progetto che mi lo conosce perché poi loro ci hanno accompagnato invece nella comunicazione quel progetto sostanzialmente consentirà questo è in fase di attuazione perché abbiamo da poco diciamo esperito tutte le diciamo procedure amministrative ci consentirà di affidare ad un soggetto privato quando dico affidare uso un termine improprio cioè di cogestire perché questo è il senso del partenato speciale di cogestire insieme al partner privato la riqualificazione delle serre borboniche il privato si assume l'onere diciamo di riqualificare anche sul piano architettonico strutturale le serre che erano sostanzialmente del tutto prive diciamo di valorizzazione accoglienza erano diciamo in qualche modo una parte abbandonata del giardino inglese di rifunzionalizzare in senso produttivo le serre diamo la possibilità ai soggetti privati di produrre le specie vegetali del giardino inglese di recuperare la funzione produttiva che avevano un'epoca borbonica di vendere quelle specie vegetali di commercializzarle non solo nell'ambito della reggia di caserta ma sul mercato diciamo liberamente con un marchio importantissimo che è appunto il giardino inglese della reggia e e poi diamo la possibilità al nostro partner sempre in una forma diciamo condivisa di costruire e allestire diciamo dei processi di valorizzazione culturale del giardino inglese terza esperienza crotone area archeologica di capocolonna , museo nazionale di capocolonna e il teatro di capocolonna lì avevamo una situazione diciamo veramente di semispascio ma di una bellezza straordinaria anche quel luogo abbiamo realizzato un partenato speciale che è partito questo è partito in estate e già sta dando dal mio punto di vista dei risultati veramente di quello sono contentissimo perché era una sfida in Calabria diciamo complicatissima da realizzare invece ci stiamo con grandissima fatica diciamo riuscendo anche lì un consorso di imprese sociali ha colto questa sfida quindi abbiamo costruito questo partenato speciale ai partner verrà affidata è stata affidata diciamo la sempre congestione del teatro delle attività educative del museo e delle attività di educazione al patrimonio dell'area archeologica di capocolonna e anche la possibilità di costruire eventi culturali che è soprattutto diciamo un processo di animazione territoriale intorno alla a questa enorme diciamo e preziosa area diciamo museale e archeologica in un territorio che è tra i più poveri in Italia quindi quella è una sfida diciamo davvero interessante perché lì abbiamo molto calcato la mano anche diciamo sui svolti sociali che un processo di questa natura può avere un ultimo lo stiamo realizzando questo è diciamo come dire un'anticipazione lo stiamo realizzando nel Lazio a Viterbo in cui tireremo fuori questo progetto abbiamo già costruito siamo alle battute finali quindi fra poco sarà il resto pubblico diciamo il parteato speciale che riguarderà la diciamo i beni culturali della città di Viterbo quindi il museo etrusco di Albornoz la basilica di San Francesco il santuario della Madonna delle Querce e lo stiamo facendo in connessione con anche il sistema culturale locale che pure è ricco perché Viterbo diciamo è una città molto ricca di patrimonio e anche diciamo di storia e quindi lì abbiamo agganciato al parteato speciale un accordo di validazione appunto il tema diciamo di cui stiamo discutendo per costruire per esempio un primo obiettivo pratico concreto che è quello della bigliettazione integrata tra i musei statali e tutti i musei di attrattori culturali della città di Viterbo attraverso un sistema di bigliettazione unico per l'accesso a questi siti ora vi ho raccontato velocemente perché il tempo stringe diciamo queste esperienze e quelle che stiamo costruendo secondo me è una strada Cristina di grandissimo interesse che noi dobbiamo percorrere in Italia in maniera molto più convinta di quanto fino adesso abbiamo fatto se c'è riuscito il ministero certo come vedete io diciamo i miei capelli sono estinti quindi diciamo la fatica c'è stata tantissimo Milo giustamente ride perché lui invece non ha avuto questa fatica nella vita ma ma i risultati però diciamo sono importanti che stiamo diciamo riscontrando e allora ve lo illustro perché questo è uno strumento Cristina che noi possiamo utilizzare anche per la costruzione delle nostre reti e cioè e vi illustro direttamente